Alla Lidl, da lunedì 5 agosto, aspira polvere e liquidi, utilizzabile anche come soffiatore o per aspirare acqua, capacità contenitore 30 litri, flusso d'aria regolabile 1500 watt di potenza a 69 euro. Sega circolare da banco, per tagliare con precisione legno, trucciolato, pannelli impiallacciati per mobile e plastica, altezza di taglio e angolo di battuta regolabili, lama inclinabile a piacere, 2200 watt di potenza a 149 euro. Sega circolare per tagli obliqui, per segare con precisione legno e plastica, 1500 watt di potenza a 59 euro. Seghetto a pendolo, per segare legno, plastico o metallo, 800 watt di potenza a 29 euro e 99. Levigatrice orbitale, levigatrice multifunzione o smerigliatrice eccentrica, a 19 euro e 99 la confezione. Trapano avvitatore, 300 watt di potenza e coppia massima di 40 Nm a 24 euro e 99. Livella laser con treppiede, con laser lineare e a croce e magneto integrato per fissaggio, a 9 euro e 99. Multimetro a pinza o a penna, a 14 euro e 99 alla confezione. Calibro o goniometro digitale, a 9 euro e 99 alla confezione. Bocchetta di aspirazione per frese a tazza o per trapano, perforare senza polvere e residui, a 4 euro e 99 alla confezione. Set maschi e filiere, 21 pezzi, a 12 euro e 99. Guida di bloccaggio e di taglio, a 9 euro e 99. Sette cacciavite e porta inserti a cricco, 81 pezzi, a 14 euro e 99. Inoltre troverai sempre in ogni punto vendita tanti altri accessori e attrezzi, anche delle settimane precedenti, rimasti invenduti. Grazie. 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 Grazie.